Ciao cari follower, prima di guardare questo video, il canale ha bisogno del vostro supporto in questi giorni, quindi non lesinateci con il supporto, mettete mi piace al video e condividetelo con i vostri amici per trarne vantaggio. Tanti di voi pensano che l'inverno sia finito, ma questa informazione è completamente sbagliata, e i modelli digitali globali indicano che il vero inverno tornerà con grande forza verso l'Italia, dopo il prossimo 16 marzo, e potremmo assistere a una serie di violente tempeste di neve, che sciopero da nord a sud, con forti nevicate e forti piogge, e attualmente il modello americano in particolare indica un cambiamento totale del tempo, come ho detto dopo il 16 marzo, e potremmo assistere ad altre tempeste di neve, più potenti dopo il 18 e 19 marzo pure, e quindi questa è la quiete prima della tempesta, e tra pochi giorni l'inverno tornerà prepotentemente in Italia e in tutta Europa, e questo è dovuto alla separazione di un blocco polare molto grande, dal blocco genitore, che colpirà fortemente il bacino occidentale del Mediterraneo e l'Italia, e forse continuerà per diversi giorni. Quindi le aspettative finora sono molto forti e indicano una forte inversione del tempo dopo il 16 marzo. Restate sintonizzati per maggiori dettagli in seguito.